La ricerca del felino Nel corso delle stagioni ho imparato a riconoscere ogni individuo dalle sue tracce, la sua voce, dai suoi compiti o dal suo carattere. Ripenso alla manciata di appassionati che liberando le linci sono stati in grado di ricreare un equilibrio tra prede e predatori in modo che l'intera foresta potesse beneficiarne. La ricerca del felino